Andava in giro con un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 15 centimetri. Immediata è scattata per un sessantenne la segnalazione all'autorità giudiziaria. L'uomo è incappato in un controllo dei carabinieri della compagnia di Caltanissetta impegnati in un servizio ordinario nel territorio. Un controllo di routine dal quale è scaturita la segnalazione per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il sessantenne è stato fermato mentre camminava e sottoposto a perquisizione personale, evidentemente dopo aver destato più di un sospetto tra i carabinieri impegnati nei controlli. Ora sarà chiamato a spiegare anche perché aveva quel coltello con sé. Nell'ambito della stessa attività di prevenzione dei reati, i carabinieri hanno verificato 67 automezzi, elevato 5 contravvenzioni al codice della strada, identificato 95 persone e sequestrato 3 grammi di marijuana e 2 di hashish.